Il mio sogno è dal 24 al 27 gennaio dove saranno raccolti dei fondi per i bambini vittimi di guerra in Siria. Sono i bambini dimenticati del nostro tempo. E allora io vorrei cogliere l'occasione di citare Mary Toscano che è la responsabile di Verona Forsivia e Sebastiano Nino Fezza che è un fotoreport della RAI che si occupa attivamente per la raccolta fondi per questi bambini oltretutto anche Auxilia Italia che è la fondazione per la quale avviene questa mostra dove sarà possibile acquistare opere, queste due e tantissime altre, gli artisti che hanno donato il tutto gratuitamente per una raccolta fondi per questi bambini. Sono fatti col caffè queste? Sono fatti col caffè. Ringrazio Matthew Watkins che nel maggio di quest'anno davanti a un caffè a Verona mi ha stimolato a utilizzare questa sostanza. Vorrei citare sempre nella mostra, se mi permetti, il professor Giorgio Grasso che è uno dei più importanti storici curatori di mostri in Italia. Dunque vi invitiamo tutti alla sala consigliare di Piazza di Madonna della Campagna dal 24 al 27 gennaio.